Allora, si preannunciano barricate, si poteva fare qualcosa prima che si arrivasse a questo punto? Credo proprio di sì, noi come Legambiente da mesi siamo in contatto con le associazioni ambientaliste tunisine, ma anche con alcuni rappresentanti parlamentari, per trovare la giusta soluzione a un problema che, bisogna sottolinearlo, è generato qui da noi, perché i rifiuti sono partiti dalla campania e quindi la campania c'entra, probabilmente a partire dalla regione si poteva gestire diversamente tutta la vicenda, magari provando a caratterizzare i rifiuti che dovrebbero essere, tra l'altro la cui composizione dovrebbe essere già nota lì in terra tunisina e destinarli direttamente ai luoghi di destinazione, vale a dire lì dove dovrebbero essere smaltiti, perché io credo non si tratti di rifiuti tossici, ma di rifiuti magari speciali, magari non pericolosi, che qua facciamo fatica a smaltire, che però potrebbero essere trattati alla pari di tutti i rifiuti in impianti predestinati, in impianti ad hoc, che è probabile sia in altre regioni italiane. Tutto questo però lo capiremo nelle prossime ore, quando i rifiuti saranno sbarcati e ci sarà la caratterizzazione, vale a dire l'individuazione e il riconoscimento delle diverse tipologie. Ora è comprensibile l'apprensione, la preoccupazione delle popolazioni, perché noi siamo stati scottati, soprattutto nei campani, dalle vicende dei rifiuti, quindi abbiamo delle grandi preoccupazioni. Però credo che nel giro di qualche giorno si possa chiarire al meglio tutta la vicenda e capire le cose da fare, fermo restando nel ruolo della magistratura e delle forze dell'ordine.